Natale, prepariamo adesso un piatto non tipico del nord, il brodo con i capponi, ma il brodo del centro Italia che va consumato il giorno di Natale. Che cos'è? Sono tocchetti di torrone in brodo con decorazione di alloro e mais. Allora cominciamo. Bisogna innanzitutto fare un brodo vegetale di prima qualità, a portata di mano mais sempre di prima qualità, torrone di prima qualità, alloro. Tutto ciò può essere degustato con vino e birra, esclusivamente insieme. Allora, il brodo, eccolo qua, lo abbiamo e lo appoggiamo per comodità sul collo della bottiglia, ma non è obbligatorio. Prendiamo l'alloro e lo adagiamo sul brodo, come una barchetta. Dopo che il torrone, eccolo qui, il torrone, tocchetti di torrone in brodo e dulcis in fundo, mais, poco. buon appetito e buon Natale!